Ha iniziato le proprie attività con una grande festa, la consulta giovanile di Fiume Freddo di Sicilia, Calcasale Papandrea, ha organizzato un evento per presentare alla città le proprie iniziative. Questa è la nostra prima serata di presentazione, noi ci presentiamo attraverso un video a tutti i giovani e non solo, per presentare il nostro progetto e presentare soprattutto chi siamo noi, i membri della consulta. E tra l'altro già ci sono diversi progetti in cantiere. Il primo fra tutti è quello di incontrare assessori, sindaco e responsabili di servizio per avere un piano, una visione generale di tutto il paese, delle varie problematiche e quello che può offrire a noi giovani. È un inizio di un percorso che ci vede insieme, siamo un gruppo di giovani, speriamo di fare bene in questi due anni, oggi ci stiamo facendo un po' conoscere ma faremo dell'altro sicuramente in questo periodo che adesso verrà. Possiamo dire che questa sera abbiamo la serata di presentazione e di apertura, ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato fiducia e che si sono impegnati con noi affinché la serata andasse a buon fine.